Ciao a tutti, oggi è il 25 aprile, una data molto, molto importante per la nostra nazione e questa milonga la vorremmo dedicare a tutti i maestri delle scuole di tango che in questo periodo sono in grossissima, grossissima difficoltà, sperando poi di rivederci molto presto, in un grande abbraccio tutti insieme, riprendere tutte le attività e così ripartire in un mondo migliore, in un mondo più salutare per tutti. Grazie ragazzi e mi raccomando, siamo forti! Grazie a tutti! 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 Grazie a tutti!